Salve a tutti ragazzi In questo nuovo gioco La serie Joke Flash Si chiama Portal Allora scegliamo il livello Opzioni E' il tempo di iniziare il tuo test Allora questo gioco Useremo con il mio Dovremmo allora Col mouse Dovremmo Teletrasportare Dovremmo mettere un punto di inizio E un punto di Non ho sbagliato E con il mouse dovremmo muoverci Una qui Una qua Ok Dovremmo superare dei vari livelli Facendo così Non prendo Rimettere trasporto da una parte E poi Tantano No Allora un attimo Aspetta più Ok E così E così Abbiamo superato anche i secondi Beh i primi livelli sono facili Ah qua ci dico anche le frecce come fare Buongiorno banzai e se ci daremo più spinta ci farà rimbalzare un po' più lontano ti puoi muovere? qui penso sia la stessa cosa ma questo poi è facilissimo ecco adesso iniziano le cose un po' più difficili andiamo sono sospesi in aria adesso devo capire dove devo andare no ecco qua come ho fatto prima la spinta che ci dovremmo dare livello 5 oddio questo qua è una cosa che ho odiato tantissimo il fatto che dovessi darmi forza saltando da una parte all'altra no no ok 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 Ho sbagliato tutto Era giusto però Ho sbagliato io Allora sono a saltare Oh C'ho mai fatta E adesso Oddio Come faccio Oh Ci abbiamo fatto Ecco la stessa cosa Dove mi va qua Vediamo un po' Non ho capito Allora Ecco la stessa Vediamo Ok No Questa cosa si ripete Questa coppia Ah Ho trovato Tu hai bisogno di molto spazio Una stanza per entrare E andare a questo Ah forse ho capito Ecco qua Ecco qua Questa cosa dovremmo far Qua penso Bravo Ok E adesso Mamma mia A ver se non posso far Niente Questa cosa Buono. non lo devo far più veloce mi sono salvato che gran fortuna adesso lo devo fare no questo non lo sì 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 sono fatta sì ancora sì 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 so stupido adesso non ritorno più là dentro adesso dove vado? che devo entrare lì dentro ditemi dove adesso? cioè niente ragazzi siamo arrivati fino al livello 14 mi sembra se vi è piaciuta la parte mettetemi i piaciuti ai commentati iscrivetevi ciao 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 ciao